Si guarda un dia con la nostra marca del nostro calendario, con la celebrazione di Hobie Grandi. E mi propisa, mi chiede, un dia a dia con una nostra faccia di Hobie di differente, un gruppo di nostra comunità, che vengono a celebrare una Hobie Unica, qual è la fegge di nascimento di nostro libertatore, Betico Cruz. E con la nostra faccia di Hobie, mi chiede, mi chiede, è parte di famiglia, la famiglia andata ben junto, di diverse attività di sport, di cultura, e il tour con un messaggio di un messaggio, che la famiglia dà un altro hobby importante per Betico, e nel stesso momento è un momento per noi per celebrare la sua vita. La sua vita è parte che contribuisce nella nostra comunità, nel nostro paese, per formare il nostro paese, e lo che noi stiamo a fare, e anche nella nostra banda, qualcosa che è molto più importante per noi per la nostra comunità, è parte di musica, è parte di arte, è parte di educazione, ma è un'impatto di Hobie in differente maniera per la nostra comunità, e è sempre quello che noi stiamo a fare, di riflettere la nostra comunità, un'impatto di Hobie è importante per il nostro paese, a ruba completo per celebrare la sua vita di una forma di Hobie Positiva. Non si non è un maestro di scuola, un musico, un atleta, un politico e un estadista, come a fare una situazione, come a fare una vita di più, come a fare una visione, di riflettere la zona grande della cultura, con una situazione, una visione, una strategia, un'impatto di energia e la dedizione, Determinazione a l'ogra che il popolo parla e metta qui, e finalmente Aruba può arrivare nel momento che è arrivata a questa parte. Aue, un bianco di Aruba, sta parato nel momento qui, donando Aruba completo, felicitazioni per il momento, però ponendo anche l'infasi sulla importanza della lucha qui.